con un'esplosione spettacolare alimentata da 250 candelotti di dinamite il consorzio di bonifica delle marche ha detto addio al vecchio ponte amelia di monte cerignone e ha posto le basi per la costruzione di un nuovo ponte che sarà ultimato in tempi record entro i primi di aprile il nuovo ponte che sarà completato nel giro di un mese sarà realizzato in acciaio corten e con una presenza di isolanti sismici e altre soluzioni avveniristiche in questa spettacolare demolizione sono state usate tutte le accortezze per causare il minimo impatto ambientale sul fiume conca sul corso d'acqua non è caduto un solo centimetro di catrame perché era stato tolto prima dell'esplosione mentre i detriti prodotti dalla detonazione verranno asportati nel giro di un paio di giorni una parte da protagonista in questa opera è stata la regione che ha contribuito con importanti risorse finanziare a questa realizzazione. Dobbiamo rendere omaggio a chi ha lavorato prima ancora a chi ha progettato questo ponte che ha svolto egregiamente il suo servizio per quasi 70 anni essendo del 51 il ponte va fuori esercizio non perché mal costruito ma perché costruito con materiali molto poveri rendiamoci conto che stiamo parlando del primo periodo della ricostruzione. Un grande ringraziamento alla regione Marche al suo presidente che hanno voluto dare un contributo fondamentale di 800 mila euro per contribuire alla ricostruzione e poi un grazie, una gratitudine a tutto l'apparato tecnico a cominciare dall'ingegner Mario Primavera della provincia di Pesare Urbino che oltre al contributo di carattere finanziario per 500 mila euro è stato un ottimo punto di riferimento per le soluzioni tecniche. Il ponte è un'opera strategica nelle infrastrutture di collegamento del comprensorio e una delle principali porte d'ingresso del Monte Feltro che serve una popolazione molto vasta e per questo è stato chiesto ai progettisti del consorzio di fare una struttura all'avanguardia. Ma un altro partner essenziale in questo progetto è stato l'apparato tecnico della provincia di Pesare Urbino che oltre a un contributo finanziario di 500 mila euro è stato un ottimo punto di riferimento per le soluzioni del caso.